Musica Amici carissimi, bentrovati a Piazza del Popolo. Nella settimana in cui ricorre il Carnevale di Manfredonia, in cui si festeggia il Carnevale di Manfredonia, la giusta occasione è quella di avere come ospiti due importanti personaggi che hanno fatto del Carnevale anche la loro storia. Due importanti personaggi, ma due carissimi amici con i quali vi è stata collaborazione anche nel passato, collaborazione artistica, collaborazione ma soprattutto amicizia. Amici di un'intera città, personaggi che davvero hanno lasciato e lasciano tuttora il segno in una città che vuole emergere, vuole crescere, ma per emergere e per crescere necessita di valorizzazione, necessita soprattutto della valorizzazione di quelle persone che portano il testimone della città e lo portano davvero bene. Lello e Franco, ovvero Franco e Lello, Franco Rinaldi. Parli veramente bene, sei un giornalista di SREA, veramente bravo. Per cortesia, allora lascia stare, prego vada avanti per cortesia, vada avanti. Ci piace, mi mette l'imbarazzo. Assolutamente, sei eccezionale. Lasciano parlare, non iniziare. E per cortesia, tanto per iniziare, ti prego di parlare in lingua. Vai Vincenzo, vai. Allora, andiamo. Buonasera a tutti. Salutiamo il pubblico, buonasera. A tutti i cipontini, quelli che stanno lavorando, alle nonne, alle mani. Vuoi far finire prima e poi saluta, per cortesia. Non ha finito. Ah, non ha finito. Vai Vincenzo. Se volete mi metto io al posto vostro. Vai Vincenzo. Poi ti facciamo l'intervista. Vai Vincenzo. Franco Rinaldi e Lello Castriotta. Corre a Manfredonia all'anno di Grazia 74, ieri o giù di lì. E per fatal gioco del destino sulla strada dell'arte, del sorriso, si incrociano e si congiungono due traduttori di creatività. Congiungono, insieme a me, per cortesia. Franco Rinaldi e Lello Castriotta. Sì. Collezionisti di un gran bel vissuto. Un vissuto fatto di socializzazione, un vissuto fatto di cultura, un vissuto fatto d'arte. Soprattutto l'arte che ha contraddistinto il vostro cammino. Quindi nel 1974, però non ancora abbiamo salutato i nostri telespettatori presentandovi. Stavo... Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera amici in ascolto. Buonasera a tutti quanti. Come diciamo noi negli spettatori. Mascolo, femmine, giovane, moagnone, scappazione vicchia, santa tarletta, manlenga, roc-roc, cuquece, maciere, desce, piscore, sganiete e scacate. Buonasera a voi. E a tutta la razza vostra. Insomma, signori, buonasera a tutti. Buonasera. Mi raccomando, non disprovergializzare. Mai, mai. Parlare sempre... Non parliamo più in dialetto. Dobbiamo parlare in lingua. Sì. Disfruttere in lingua. Vincenzo. Sì, caro Vincenzo. Noi ci siamo incontrati nel 74, ma credo che già prima io facevo teatro alla chiesa presso la parrocchia San Michele con il direttore Valente, tutta Condina Valente. Ma sapete che siete a Piazza del Popolo? Trasmissione, rotocalco di... Questa è Piazza del Popolo. Noi adesso non abbiamo più Piazza del Popolo. E quindi... Sai che non abbiamo più Piazza del Popolo? Abbiamo Piazza Tripoli. Beh, va bene, va bene. Ma che è scritto da Merde Gheddafi? Beh, va bene. Lui da là, Piazza Tripoli. Mamma mia. Piazza Tripoli. E quindi... Sì, mi che è Piazza Gheddafi. Non è che è Piazza del Popolo. Ci siamo incontrati. Lui aveva un gruppo, una compagnia, la Comich Motor, gli artisti di strada. Ci siamo incontrati e così ci siamo messi insieme. Noi ci siamo messi insieme. Noi ci siamo messi insieme. Lui si doveva insipire all'RB, la discoteca, una discoteca molto in vista a Manfredonia. L'unica. Stavo facendo uno spettacolo. Ma vogliamo fare la serata io col gruppo che... E abbiamo fatto questa serata all'RB. 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 Di lì poi è nata questa amicizia artistica che si portai da 40 anni e... Ma non mangi lo vuoi che sopporte 40 anni a cosa. E ne abbiamo combinati tutti i colori. Non è tanto, no? Non è tanto, no? La cosa bella è che non ci siamo ancora stancati. Quest'anno, lo vuoi dire tu Lerlo? Festeggeremo i nostri 40 anni. 40 anni Lerlo Castriò. Ad agosto c'è una grande... Stiamo preparando... C'è un nostro amico parcheggiatore che è convinto che tu sei Franco Rinaldi. E va bene, va bene. Sì. Ma di fatti a me chiamano Franco, a lui chiamano Lerlo. Va bene. Festeggeremo, stiamo preparando una serata di gala, un gran calà che faremo ad agosto. Un avvenimento storico dove inviteremo un po' tutti i ragazzi che in 40 anni si sono in spirito con noi. Ci sarà questa grande manifestazione in piazza che noi faremo e che fra o luglio o agosto, stiamo decidendo la data perché dovremmo avere la disponibilità. e chiaramente sarà l'aperto, non ci saranno le transenne per i buoi, saranno libere, solo alcuni posti per chi verrà da fuori, il resto... Non ci saranno posti riservati? No. Ci sarà solo un piccolo gruppo di artisti che verrà solo qualcuno che verrà da fuori, il resto sono tutti posti liberi a sedere, quindi l'agenda non ha problemi, non ci sarà bisogno delle presentazioni. Quindi per festeggiare i 40 anni. I 40 anni, però poi con Franco stiamo affrontando anche dopo carnevale, faremo due serate subito dopo carnevale, presenteremo, usciremo con un nostro spettacolo, un paio di serate proprio subito dopo carnevale, quindi prima della metà di marzo o dopo la metà di marzo faremo uno spettacolo con Franco. Diciamo sempre che nello spettacolo di quest'estate sarà sempre inserita la manifestazione che ogni anno con l'Avis e il premio di solidarietà che ogni anno organizziamo con l'Avis. E poi con Franco stiamo mettendo a punto, penso di fare, di ricordare un po' fra chi dovremmo ricordare Franco? Insomma, noi avremmo intenzione di ricordare alcuni artisti locali, alcuni cantanti che non ci sono più, amici che non ci sono più, Luciano Gatta, Charlie in Pagnatiello. E poi un altro grande cantante che è anche molto famoso, Pasquale Riccardo. Quindi in questa serata ricordare anche questi amici, questi bravissimi cantanti. Credo che sarà una serata molto bella, molto interessante, molto viva, non di nostalgia. Come vi siete conosciuti? Così, io... C'è qualcuno che vi ha presentato? No, io quando l'hai visto mi sastretti... Allora, il problema, noi avevamo il gruppo che uscivamo in mezzo alla strada, io facevo il mazziere tipo... Il gruppo della Comich Mod. Sì, tipo il mazziere Napolitano, attenzione, battagliore, si è formato in un ballon, con il cappello. E avevamo gli strumenti, la fisarmonica, la chitarra, c'erano degli strumenti in latta, che trovavamo, dei piatti. Sì, e avevamo, c'erano persone che oggi... Una quindicina di persone, molti oggi sono dei bravissimi professionisti... Va bene, ma pure tu sei un bravissimo professionista. Sì, va bene, lo so, ti ringrazio. E quindi abbiamo, ci siamo incontrati... Franco era preso da questo modo di fare nostro, adesso... Insomma, era una cosa nuova. A noi piaceva Franco Rinaldi, perché Franco Rinaldi era l'esempio, perché... Vi siete piaciuti, vi è stata attrazione. Sì, c'è attrazione, così da allora... No, non abbiamo mai fatto lavoro insieme. No, di a me, perché... Non abbiamo fatto lavoro insieme, credimi, perché lui ha tentato, io ho detto no, anche perché abbiamo un difetto di fabbrica. Ci piacciono le donne, con tutto il rispetto alle altre... Mi chiedo, se vuoi, possiamo fare noi la domanda. Nel 1974 mi siete incontrati, avete fatto... E da allora abbiamo iniziato poi a fare... Avete fatto sodalizio, e avete iniziato a fare spettacoli insieme. I primi spettacoli, ti ricordo, facevamo spettacoli... Allora, io con lui abbiamo fatto subito dopo, abbiamo fatto subito dopo... Spettacoli per le scuole, facevamo... No, abbiamo fatto prima di fare spettacoli per le scuole, noi abbiamo iniziato a fare l'animazione... La domenica mattina, al cinema San Michele, dopo il film, noi facevamo degli sketch per i ragazzi. Così, degli sketch per i ragazzi. Degli sketch poi molto... erano molto movimentati. Ma anche alla radio, ti ricordi? Sì, ma però prima erano soprattutto... Non è 78 la radio? Sì, per i bambini. Radio amiche. Abbiamo collaborato, storia e fattorio, ma poi nello spettacolo vero e proprio nostro, noi siamo partiti nel 77 a fare spettacoli per le scuole. Sì, sì. Erano dei corsi serali per lavoratori, siamo andati un po' in giro. Avevamo una compagnia tutta nostra, c'era un grande... C'era un grande cantante, Luciano Valenze, che adesso fa il prete. E quel ragazzo che scrisse Donna Mia. Fa il prete, è un prete. Bravissimo, bravissimo artista. Poi stava con noi un grande fiserman, che attualmente è un direttore generale della Banca d'Italia in via nazionale a Roma. Dissida, Antonio Dissida, e poi altri amici, Giovanni, Giovanni. E un altro dirigente che stava con noi, Giovanni Laureola, alla chitarra, e avevamo il furgone, l'impianto di luci, voci, e poi purtroppo... Anche con un furgone. E ricordo che con quel furgone Luciano Valente andò a Roma perché ebbe un'udizione alla RCA di Roma, tramite Luciano. A Verona poi successo un'incidente, abbiamo perso tutto. E poi doveva andare a incidere, fu sfortunato, doveva andare a incidere quel ragazzo ed ebbe un incidente stradale molto brutto. E poi da allora va bene, cambia tutta la sua vita, peccato. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti, Vicente. Durante il corso di questa vostra attività, di questo vostro sodalizio, sono state tantissime le attività che avete svolto. Molti ricordano con tanto piacere quello che accadeva nel periodo di Carnevale, soprattutto tra i 70 e gli 80, parlo degli anni, quando organizzaste l'arrivo a Manfredonia. John Stravolta. John Stravolta. Allora, febbraio 1977. Ecco, vorrei qualche aneddoto. Allora, con Lello trovammo una jeep, ti ricordi, Lello? Trovammo una jeep e con questa jeep, tipo americana, noi eravamo i giornalisti americani. Giornalisti americani. E lui si vestì, mi ricordo, eri tutto vestito da giornalista americano per un permeable bianco. Ma come siete vestiti? E lui, tipo Zepep, siccome è Carnevale, e lui, Master Luigi, che ha stupito sull'aventura. E insomma, stavo dicendo, stiamo andati a Sipo, abbiamo allestito questa jeep, tipo americana, con delle stelle e compagnie a bene, lui faceva una parte. Problema vero è che noi abbiamo messo i manifesti per la strada, aveva detto che arrivava John Travolta a Manfredo. No, stava una S avanti con i puntini. Qui dalle capo di John Travolta. Sono scompro, Manfredo. Allora, dalle capo di John Travolta. Ci siamo imbarcati a Sipondo. Allora, aspetta, aspetta, fammi dire. Andiamo con l'ordine. Fammi dire. Lui andava in una macchina, siamo arrivati con una jeep. Stavamo io, lui. No, noi siamo arrivati via ferrovia. Sì, via ferrovia. Da Sipondo noi siamo arrivati alla stazione città. No, no, noi abbiamo aspettato lì. Ah, tu stavi dentro, sì. Tu stavi dentro. Lui stava con John Travolta dentro l'aio. Chi era John Travolta? Matteo, come chiamami sopra la mia? Matteo Spagliolo. Non so se si possa fare la pubblicità. Va bene. È un noto commerciale. Io non la faccio. Matteo Spagliolo. Matteo Spagliolo. Non è se lo sbaglio, un soprannome. Calascio, non chiamami. Detto Calascio. Era simpaticissimo Matteo. E noi lo convincemmo, Matteo. Tu sei tale quale a John Travolta. Io ho togo di gelato. Tu sei tale quale a John Travolta. Tu sei tale quale. Ma l'altro è scritto a John Travolta. No, tu sei John Travolta. Si convince. E gli mettemmo due chili di lacca in destra. Era simpaticissimo. Era uguale a John Travolta. Insomma, con questa jeep partemmo. Siamo arrivati alla stazione città. La stazione città. Alla stazione città c'era una marea, c'era qualcosa come 7-8 mila persone. E stava arrivando. Giazza Marconi era bloccata. Polizia, carabinieri. Pericolosissimo. Ricordo che furono anche affissi dei manifesti per l'arrivo. Appena si aprirono le porte del treno, ci fu lo scarico da ragge, tipo il carnevale di Ivrea, e si chiudeva il carino. Allora, no, no, adesso mi sto ricordando. Lo scarico da ragge. Lello andò, perché io disse a lui, tu vai insieme a Sipondo. Lui andò insieme a Sipondo, con John Travolta e gli altri amici, e ha detto, quando arrivate a Manfredonio, salutate il pubblico. Loro non lo sapevano. e ti salutate il pubblico. Noi avevamo già pronti che cinque caccia, una decina di cassoni del Ciappone. Perché secondo me stavano un paio di quintali di arance sicure. Insomma, come arrivò il treno... L'avete fatto conoscere, come hai detto, il carnevale di Ivrea con l'alago antico. Loro arrivarono alla stazione, salutarono tutte le persone, John Travolta salutò le persone, e c'è stato un scarico di dieci minuti. Il treno era diventato pieno di pastoneghe banine. Poi non si capì più niente. E poi alla fine ci fu un applauso bellissimo. La cosa che c'è stata, che è bruttissima, in Piazza del Popolo c'è stata una rita violenta, tra gli altri ragazzi, perché c'erano degli scalmanati, e ci siamo presi a botte, proprio è successo. Una rita violenta? No, una rita, insomma, una rita, una piccola rita. perché erano i famosi, come si chiamavano qui? Ikebjall. No, eh, sì, adesso ho detto... Una specie di kebjall. Eh, ma che mani... Ikebjall moderno. Moderno. Ikebjall moderno. Va bene, va bene, ci stete. Ikebjall moderno. E quindi... Quindi l'arrivo di John Travolta si è concluso con questo... Questo scarico, questa scarica. Dopo due anni, negli anni Ottanta, abbiamo fatto l'arrivo di Ayatollah Khomeini a Maffredda. Benissimo, raccogliamo questo episodio. Eh sì, con gli amici di Cidifoglia, Matteo Trotta. Allora, Ayatollah Khomeini arrivava al porto, al Mono di Levante, giù, con tutte le parme. Vestimmo, Tredicil. Avevamo i somali, i somali. Ayatollah Khomeini Vestimmo a Tredicil. Nero, nero. Noi tutti gli amici era Tredicil. Pasqua, Pasqua. Pasqua. Vietano Pasqua. Gaetano. E ditto, Alio, stai zitto. Quando andiamo da Siponda, perché dovevamo andare da Maffredda, e poi abbiamo fatto il giro. Insomma, arrivò questa barca. No, che hai detto, Vincenzo. La barca italiana. Tu che hai detto a Tredicil. E ditto, Alio, quando andiamo a Maffredda, stai zitto e non parlare. E tu non parlare. Se no, si nasceva a Tredicil da Maffredda. E insomma, arriviamo sul porto con la barca di Felice Taglialo, Buscatiello, che portò a Tredicil, a Yatollah, con tutti questi personaggi che poi ci seguirono. E lo mettemmo sopra un cioccio. Un cioccio, hanno un certo potere, se ne scappò a l'improvviso. Ma andiamo a questo cioccio, porto l'andrata. Prendemmo Tredicil e lo mettemmo sopra. L'improvviso a me che ricordi, quando tu hai detto a Tredicil, Ghetà, di a tua moglie, amore di a... Ah, sì, sì, quando lo dissi. E allora mettemmo a Tredicil con tutta la banda dei moneli, ti ricordo che c'era la banda dei moneli del maestro Leporace che andava avanti a noi e dal porto di Levante andammo poi per il corso. Andammo per il corso e arrivammo a Tredicil dal giornalario alla sua e lui andò dalla moglie Tredicil ha detto sempre che lui è il miglior giornalista che abbiamo avuto le cose. E lui diceva alla moglie Beh, non ha tolto. No, noi dicevamo alla moglie Chi cai? E la moglie diceva Madonna quanti brutti Chi cai? E noi dicevamo Boh, boh Chi cai? Madonna zè All'improvviso a Tredicil salta da un cioccio si toglie la parrucca una cosa da pisciare sotto poi di lì siamo partiti siamo partiti e siamo arrivati fino all'azienda di soggiorno e turismo la gente divertita si divertiva da morire perché era una Anche perché l'azienda di soggiorno e turismo aveva sede in via in via di fronte alla chiesa del caro no, di fronte alla chiesa del caro stava già lì ma la cosa bella è che la gente si divertiva si divertiva perché le famose burle no? le famose burle quindi queste erano le burle di carnevale sì ma poi ne abbiamo fatte altre tanti altre altre adesso mettiamo un punto su quelle che sono le burle però sul carnevale ci torniamo anzi lo prenderemo lo lasceremo lo riprenderemo qualcuno vi ha definiti o ha addirittura proposto che possiate assumere il ruolo di ambasciatori del carnevale noi ringraziamo questa persona però non per essere adesso dei presuntuosi noi abbiamo già portato il carnevale di Manfredonia fuori quando siamo stati a Saviano quando siamo stati in provincia a Saviano non è che abbiamo portato noi abbiamo fatto a Saviano nel 2007 di animatori ufficiali del carnevale 110.000 persone 13 carri esatto e in un'ora abbiamo cantato più di 7 8 canzoni nostre in vernacolo siamo stati a quell'altra città con Italo con Pianto Porto Recanati dove abbiamo abbiamo parlato del nostro carnevale siamo stati della Beat di Milano siamo stati vabbè dopo lo diciamo dopo voglio dire abbiamo pubblicizzato abbiamo già pubblicizzato molto il nostro carnevale attraverso le nostre canzoni con i nostri costumi mettendo in evidenza che abbiamo la più bella sfilata d'Italia di bambini sulla quale dovremmo puntare ma questo è un fatto che vogliamo dire dopo benissimo negli anni a finire degli anni settanta siete stati anche protagonisti in radio io sono riuscito a trovare anche grazie alla tua enorme collezione privata Franco questo manifesto è un cimelio storico perché praticamente è la locandina che pubblicizzava la nascita di Radio Amica Amica e nello staff c'erano questi personaggi Mina Camasso Renzo Castriotta Lello D'Alessandro Toni De Pace Maria Luisa De Palma Michele Del Bravo erano molto bravi tutti bravi Pietro Del Monte Gigi Fatone Pasquale Latosa Bruno Mondelli Pasquale Salcuni Mimmo Totaro Lucio Vernazzani e infine ma non perché siete gli ultimi Franco Rinaldi e Lello Castriotta questa è una delle prime radio libere di Manfredonia voglio ricordare che prima di questa emittente gestita da Michele Del Bravo benissimo prima di questa emittente a Manfredonia ebbe vita Radio Puglia questa fu la prima in ordine assoluto poi contemporaneamente nacquero a Manfredonia nel 78 Radio Manfredonia Centro e Radio Amica è vero è vero fermenti importanti dal punto di vista culturale noi Radio Amica facevamo prima un programma notturno ti ricordi alle 3 di notte alle 2 di notte noi abbiamo fatto tre programmi il primo era i forbicioni parliamo Lello di questo di questo programma il primo era i forbicioni che erano noi ne abbiamo fatto solo era solo cabaret poi c'era l'altro programma un schifo adesso dovete tradurre che cosa significa il battello ce l'avete e allora imbarcatevi con noi uno spettacolo per Sacrestani portacandelle rock rock bello una cosa simpatissima e è uno spettacolo tipo altro gradimento cioè ciò che fanno oggi però cabaret vero di tutte le cose il radio il radio dj rds o rtl 102 noi purtroppo abbiamo fatto siamo un po' stati quindi uno dei primi esempi di cabaret radiofonico che c'è stato un schifo diciamo in tutta Italia perché effettivamente è una trasmissione arrivavamo fino a Bari come radio per cui eravamo ascoltatisti ed era un programma molto ascoltato e poi abbiamo fatto il programma notturno Buonanotte Fiorellino ma una cosa con Gennaro alle due e nera Gennaro Gennaro spagnolo spagnolo erano gli auguri che facevamo ai panettieri alle guardie notturne salutavano tutte le signore alle forze dell'ordine tutte le signore facevamo gli auguri anche i ladri nella speranza che venivano in stati e anche alle signore sono che stavano che i mariti alle piscoli sempre stufati le piscoli le piscoli sono quelli che hanno il sedere insomma c'è un culo che sono le discone a mano quindi questi tre programmi sono stati seguitissimi fino alle tre le quattro di mattina quindi eravamo nel 78 79 anno 79 anni 80 ci siamo divertiti tanto alla radio quel periodo avete collaborato poi successivamente anche con altri emittenti di Manfredonia sì anche con programmi televisivi abbiamo fatto un sacco di programmi anzi c'è stato a distanza di anni abbiamo con l'amico Tonino con Antonio Guerra abbiamo collaborato tantissimo anche con le pubblicità il programma di Forbicione facevamo sì sì il programma di Forbicione abbiamo continuato siamo andati avanti cioè non abbiamo mai spesso c'è stato un periodo di pauso per qualche momento io sono stato impegnato per altri motivi ma poi abbiamo sempre continuato cioè il sodalizio è nato continuato e continua speriamo fino a quando poi decideremo insomma un giorno esistere 40 anni assieme ci vogliamo bene è difficile è difficile perché abbiamo due caratteri lui ha un caratterino insomma molto forte però io sono più accomodante diciamo però questa simbiosi è durata molto ma io lo tratto io per me è il fratello Manciore e allora siccome lui è il fratello Manciore io gli devo portare rispetto perché a certe volte vuole spaccare io per un certo ragione no perché quando mi fa incazzare quando mi fa incazzare o gli pesto i piedi e allora lui capisce no in effetti con lui abbiamo raggiunto con Frango c'è una cosa non c'è chi sopraffare d'altro chi sovrasta l'altro sovrasta l'altro io con Franco cioè anche quando Franco prende delle iniziative mi chiama c'è un rapporto molto un rapporto straordinario proprio di fiducia e di massima rispetto fra di noi forse è stato proprio questo il rispetto che c'è fra me e lui cioè è difficile sai quando devo ammetterlo siete due ci voleva far ridicare non ci sono mai siete due grandi amici passiamo invece un attimo al privato parliamo un po' di voi singolarmente presi come single come single non come accoppiati perché quando parliamo di coppia parliamo di entrambi Lello cosa fai nella vita? io sono funzionario del ministero e quindi sono di benissimo che ministero? io sono funzionario del ministero del lavoro da più di 36 anni sono quasi alla fine della mia carriera per cui però mi interesso anche di altre cose nella vita io ecco funzionario del ministero sposato quanti due ragazzi due due e oltre si è fermato perché non ce la faceva più ha detto tu hai due figli poi parliamo di te pure tu si è fermato poi ecco Lello quanto c'è stato nel tuo lavoro rispetto a questo che è stato il sodalizio di con Franco oppure quanto ti ha dato anche nell'ambito lavorativo questo hobby questo divertimento che voi portate avanti da 40 anni assieme non solo per divertirvi ma anche per far divertire la gente perché regalare un sorriso è sempre un'impresa difficile devo esserti molto spesso e voi di sorrisi ne avete regalati siamo stati trattati come degli emeriti impecili come la gente che non capiva niente come la gente che di basso livello culturale della gente che questo non è vero c'è molto spesso siamo stati trattati come forse gli ultimi in effetti noi nella nostra vita non abbiamo mai detto quello che facevamo cioè la gente non sapeva nemmeno che io lavorassi e facessi quel lavoro franco poi parliamo di franco pensava che noi facevamo o facessimo solo questo invece poi qualcuno con passare del tempo si è informato ha conosciuto ha visto pure e ha capito che facevamo tutta un'altra cosa nella vita e quindi io oltre a questo c'è il mio impegno sindacale io ancora oggi continuo ad avere il mio impegno a livello nazionale come rappresentante delle categorie ho fatto per con che sindacato sei impegnato con la CISL sono da oltre 11 anni che sono componente della fondazione del professor Massimo Dandone dove sono sono revisore e sono anche un rappresentante ancora oggi all'interno della fondazione che mi interessa di problemi soprattutto in materia del lavoro di cui è il lavoro che più io faccio quello di stare a contatti soprattutto con i problemi del lavoro ecco non dimentichiamo invece un'altra parentesi molto importante che credo abbia in un certo qual modo segnato la tua vita sei stato anche impegnato in politica sei stato consigliere comunale e anche assessore per un certo periodo di tempo l'assessore alla cultura il turismo ho dato un'imbronda nuova di un carnevale moderno cioè oggi loro hanno questo perché io poi chiaramente con Franco ne parlavamo e grazie ai suggerimenti di Franco di qualche altro amico noi abbiamo rilanciato questa forma di carnevale moderno il carnevale non era così noi abbiamo dato un'imbronda diverso dal vecchio carnevale anche perché i tempi erano cambiati e andava rimodulata la manifestazione e questa cosa non ce la siamo portati nel tempo con Franco anche perché i suggerimenti sono stati tanti però purtroppo questo non è potuto continuare sono riuscito a farvi diventare seri no perché è bello parlare poi anche di questo al di là della vostra arte del vostro cabaret impegnato in politica impegnato anche come speaker da solo come presentatore spesso sei stato anche da solo presentatore di svariati eventi di svariate manifestazioni sportive anche perché lo vogliamo ricordare sei anche un grande esperto di sport avendo fatto l'atleta in passato sono stato uno dei pochi insieme a altre due persone siamo in tre ad avere avuti diciamo onori di rappresentare Manfredonia non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale insieme a Capaiolo Michelangelo Capaiolo e qualche altro amico vogliamo ricordare la tua specialità in atletica ci sono io non è che dico Eresia ci sono dei libri scritti dal mio tecnico professor Losito e io stesso sono stato tecnico fino al 2008 che poi adesso non esercito più per cui sono uno dei pochi tecnici insieme a qualche altro di atletica l'incena anche insieme a mio fratello Claudio che quindi è insieme a Cotugno detto il Rosso Rosso Malubun il nostro Sirosso che è bravo è bravo comunque una vita fatta davvero di tanti impegni hai avuto il tempo per dedicarti anche un po' alla famiglia sì 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 la migliore allora io dico sempre la cosa più bella teniamo due esami è la famiglia cioè la famiglia non si tocca viene prima di tutto è la cosa che più ti dà forza di far andare avanti ed è proprio la famiglia dice noi abbiamo fatto queste cose l'unica cosa che avevamo fatto cioè gli altri hanno pensato a fare i soldi noi abbiamo pensato a fare il nostro è stato un impegno sociale civile sportivo e quindi avete creato ricchezza passiamo a Franco sì da qualche mese non è più un dipendente del comune di Manfredo che io l'ho detto finalmente quindi sei un felice pensionato pensionato quasi 30 anni ho lavorato presso l'assessorato prima si chiamava cultura sport e turismo adesso è rimasto solo sport sono stato amico collega di Vincenzo di Staso che qui sta di fronte a me siamo stati grandi amici veramente io l'ho sempre considerato il mio fratello minuto e siamo stati sempre bene abbiamo lavorato bene insieme e dico la verità mi sono trovato bene in quell'ufficio ho dato il mio contributo anche alla città attraverso tu lo sai Vincenzo tu hai fatto nello sport io l'ho fatto a livello culturale attraverso mostre attraverso pubblicazioni varie articoli insomma il mio piccolo contributo alla città l'ho dato inoltre sei anche uno scrittore perché sono tante le tue pubblicazioni vogliamo parlare di questo 4-5 pubblicazioni una sul concerto bandistico molto interessante una sulla sulla chiesa della croce U3 da croce cosiddetto il libro sul carnevale bellissimo quello che hai scritto con Vincenzo il libro sul carnevale poi qualche altro adesso no Vincenzo ma facendo di giusti ecco c'è una bella raccolta di poesie di Franco un libro un libro sulle poesie a Pizzacchiaz allora visto che ti trovi di anche a Vincenzo che insieme abbiamo scritto anche oltre a Stolevatore che tu l'hai scritto altri copioni di Caparelli abbiamo scritto altri tre no copioni di Caparelli tre testi teatrali insomma anche testi teatrali tre testi teatrali che abbiamo recitato uno è importante uno è famosissimo viene spesso riproposto a Manfredonia interpretato forse all'inizio proprio da voi assieme a Tinella Capuzzo sì 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 iniziamo con Tinella sì tanti anni fa fu uno spettacolo quello poi ecco io attraverso lo ripetevo con Vittorio Trincarico con Nicola Capuzzo con tanti altri amici scusami un attimo attraverso voi vorrei ricordare ecco voi avete fatto bene a citare i musicisti locali che non ci sono più però ci sono anche tanti personaggi che hanno contribuito alla crescita del carnevale di Manfredonia e che non ci sono più abbiamo citato Tinella Capuzzo io a proposito io a proposito di questo devo dire una cosa che sono rimasto molto dispiaciuto io pensavo che la civica amministrazione dedicasse quel teatro a Giuppi Brigida con tutto il grande rispetto al grande Lucio Dalla però io non so se era opportuno dedicargli il teatro a Lucio Dalla o dedicargli l'auditorium che si poteva dedicare anche l'auditorium a Lucio Dalla però noi abbiamo avuto uno dei più grandi attori a Manfredonia che ha recitato nelle compagnie ha fatto dei film che si chiama Giuppi Brigida cioè Giuseppe Brigida ed è stato uno dei primi che ha portato il teatro a Manfredonia e da dove sono usciti tanti di quei ragazzi quindi non è giusto non aver dedicato un qualcosa di importante un contenitore culturale che potesse ricordare questo grosso personaggio bene ci sono anche altri personaggi che come abbiamo detto hanno fatto la storia del carnevale come Matteo Arena come Tinella Capurso Annette Capurso Matteo Ciociola Matteo Ciociola noi dobbiamo ricordare tutti i quali perché si sono impegnati ma lo stesso Gigetto Gigetto Prato il professor Sapone i cugini Sapone insomma adesso poi diciamo venendo verso sulle nostre generazioni il professor Adabbo che è il compianto il professor Adabbo morto da poco tempo tanti altri insomma che adesso Occio Nero il musicista Occio Nero uno dei pionieri con il professor Garzia con tanti insomma questo gruppo di persone che va ricordato per quanto concerne il carnevale Murgo il farmacista il farmacista Murgo che è stato il primo vero manager che ha pensato al fatto turistico che non aveva fatto mai nessuno avete prodotto anche dei dischi importanti noi nel 91 dei canti che sono diventati la colonna sonora del carnevale nel 91 noi incidemmo con Peppino De Salvia con il fratello con Matteo Guerra e altri ragazzi di Manfredonia Anna Rita Rascenso incidemmo il primo il primo CD di canti popolari tanto si chiama LP come si chiama L.P. era in vinile in vinile 33 ti facevamo mazzatan ma fumo sfortunati perché quelli erano e allora erano i canti del 56 del 1956 suonati all'epoca da grandi musicisti locali che poi uscì in una occasione particolare e cantati con il primo attacco di Bush padre e cantati all'epoca nel 56 all'Iraq infatti quell'anno non fu festeggiato il carnet stavo dicendo cantati all'epoca nel 56 di Alino Trigiani che era un bravissimo cantante e con dei bravissimi musicisti Palli De Salvia tanti altri bravi musicisti Matteo Wallanil insomma il famoso batterista un chitarrista molto Palumbo che poi è micro in America un altro bravo chitarrista altri chitarristi locali insomma c'era un gruppo di musicisti di alto livello e questi incisero su un piccolo registratore questi canti popolari scritti da questo gruppo di Manfredoniani e poi lo mandarono via altoparlanti per il corso durante il carnet noi riproponemmo queste canzoni con un'incisione vera e propria con Peppino De Salvia e con il fratello e tutti gli altri amici e fu fu un successo nonostante che il carneval non si fece quell'anno perché ci fu la famosa guerra del golfo e non la prima guerra del golfo poi c'è stata un'altra successivamente però diciamo il disco ebbe lo stesso successo perché era molto bello e in tutte le socie in tutte le socie dove si ballava di contrabbando quell'anno suonarono quelle canzoni però poi successivamente assieme a Lello avete inciso altre produzioni musicali con Lello abbiamo fatto anche altre cose in televisione abbiamo inciso un cd insieme di cabaret che ne abbiamo fatto due o tre però diciamo l'ultimo è stato quello più completo dico bene c'è quello più come parli bene era più completo perché abbiamo messo abbiamo messo alcune delle nostre canzoni ne abbiamo altre che dobbiamo nel prossimo dvd non cd faremo un dvd per quest'estate e insomma dove ci siamo espressi secondo me al meglio abbiamo dato il meglio di noi stessi bene Lello quanto dura questa trasmissione sei ore no 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 dura il tempo giusto per ecco passarvi con lo scanner e quindi sai cosa vuoi potremmo parlare fino alla festa la donna sì no infatti Lello inoltre c'è anche l'impegno con l'azione cattolica nella tua nella tua vita privata no più che azione cattolica sono componente del consiglio pastorale di Ocesano e sono il delegato alla pastorale sociale del mondo del lavoro beh e di che cosa ti occupi tutto stiamo affrontando il tema di quelli che sono all'interno della diocese è un progetto Policoro il progetto Policoro prevede la nascita di nuovi istituti tipo società cooperativa a favore dei giovani noi stiamo cercando attraverso il progetto Policoro il cui responsabile è Massimiliano Arena che è uno dei ragazzi che stiamo formando e quindi di creare soprattutto nuove imprese è una scommessa che speriamo di vincerla e come dice Don Tonino Di Mancio che è il direttore della pastorale cercare di creare e realizzare gesti concreti quindi spero che con Massimiliano che è un ragazzo che si sta impegnando soprattutto adesso di cercare di mettere in moto questa macchina che è difficile è un momento particolare tant'è che è vero che noi giorno 6 come come pastorale nel mondo del lavoro come diocesi di Manfredonia San Giovanni e Vieste San Giovanni Rotondo facciamo venire a Palazzo Gianrestini giorno 6 a Sessore Minervini a parlare proprio di quelli che sono i nuovi fondi strutturali europei a favore dell'impresa quindi di come si può creare imprese e quali sono le agevolazioni in cui poter attingere giorno 6 a Palazzo Celestini facciamo questo interessantissimo è una bella iniziativa soprattutto per i giovani in cerca di occupazione in cerca di lavoro o comunque è una manifestazione che offrirà lo spunto a tanti giovani nella speranza che qualcuno riesca ad inserirsi attraverso la creazione speranza anche di prendere contatti con l'assessore perché anche questo momento di poter a di là del fatto politico che non esiste un fatto proprio di impegno diretto a cercare di dare un piccolo contributo in un momento di congiuntura economica molto molto difficile difficile difficilissima sì Franco tuo impegno anche nel sociale da solo assieme con Lello puoi raccontarci qualche episodio particolare qualche manifestazione particolare a cui hai partecipato fra le tantissime una delle cose più belle che non dimenticherò mai con Lello Castriotta sempre con Lello andiamo a fare un'animazione al centro Cesarano lì c'erano tutti i ragazzi disabili un sacco di ragazzi delle carrozzine stavamo per andare via improvvisamente ci siamo visti dietro tutti questi ragazzi che ci rincorrevano che non volevano che dovevamo andare via che noi andassimo via è stata una delle cose più belle che io porto sempre nel mio cuore e non la dimenticherò più e poi le serate con i ragazzi perché non eravamo anche della tua associazione perché non eravamo con i disabili non eravamo diciamo vincenzo eravamo giovani non eravamo abituati a vedere la diversità per noi la diversità li abbiamo trattati come ragazzi normali era una cosa che non esisteva ci siamo messi a giocare con loro come ragazzi normali e questo fatto io ricordo un ragazzo con un'unghia mi tagliò il braccio perché era così preso era così contento che mi tagliò vicino al porso mi tagliò e fu una cosa molto bella poi le altre serate manifestazioni che facemmo con l'associazione anche di Vincenzo tua con la cosa del filo con i ragazzi disabili poi con gli ammalati noi ad esempio io e Fran avete fatto animazione negli ospedali avete fatto animazione con gli anziani siamo andati una volta con gli anziani parecchie volte al centro anziani non solo qui a Maffredoni anche fuori siamo andati a Foggia una volta presso l'associazione UAL Provinciale c'erano di tutta la provincia di Foggia era vescovo a Foggia con il signor D'Ambonosio il vescovo di Foggia e lì c'era una grande festa per questi disabili e facemmo un'animazione bellissima li facciamo ballare abbiamo rischiato di non arrivare più a Manfredonia alle tre di notte che ricordavamo poi con l'associazione UAL di Manfredonia con la Brigida ogni anno che siamo soci che siamo soci e ogni anno animiamo sempre quella manifestazione con il maestro Matteo Guerra o anche con gli altri amici qualcuno racconta in giro di un famoso Foggia Sampdoria in serie A in cui voi con la banda della Ciambotta Fresca siete stati i veri protagonisti di quella partita Lello la puoi raccontare? no no è meglio lo dice lui perché non mi ricordo bene stai è vero è vero tutto lo stadio Zaccheria a Foggia a un certo punto si è fatto prendere dalla vostra però Vigela con la banda della Ciambotta c'è un episodio che è bellissimo nell'ottanta era maestro della banda Antonio Catalano che ricordiamo un grande uno che ha dato un grandissimo grande amico del carnevale nonché fondatore insieme ad altri è un'altra persona che va ricordata nel carnevale insieme ad altri che è fondatore della banda siamo andati a Sant'Angelo delle Robardi subito negli anni Ottanta subito dopo il terremoto e Sant'Angelo delle Robardi era era un cumulo di macerie c'era un gruppo di ragazzini che giocavano siamo arrivati con la banda era la festa padronale noi siamo andati gratis addirittura ci siamo pagati anche il pulma siamo arrivati là la sera non c'era c'era un po' di movimento non c'era animazione la banda Ciambotta si era trasformata in orchestra noi abbiamo fatto per due ore e mezzo dopo aver girato per due ore e mezzo spettacolo per due ore e mezzo noi abbiamo fatto per due ore e mezzo la manifestazione cioè la manifestazione è che la festa padronale l'abbiamo fatta noi e ti dico di più mi ricordo che abbiamo comprato gli ultimi due contenitori di gelati che al bar erano rimasti ne abbiamo comprati noi e ne abbiamo donati i ragazzi che stavano lì quel giorno è stata una cosa bellissima che la banda ci ha botto insomma un ricordo indimenticabile io mi ricordo sempre a proposito di questo fatto io mi riferivo prima al giorno che andammo a Carremale di Putignano che non volevano uscire perché pioveva ti ricordi? pioveva allora con Matteo Trotta con tutti gli altri amici con Dante Lombardi con Pianto Ligo il Presidente 81 andammo al comitato andammo prima ai Capannoni ti ricordi i Capannoni dove tutti i carri erano già pronti e il Presidente Ducarneville diceva sta piovendo ragazzi non dobbiamo uscire Presidente qua oggi voi dovete uscire ce la vediamo noi siamo usciti fuori abbiamo iniziato a suonare a fare animazione a suonare campanelli non si è capito più ed era la prima volta che la banda ci ha botto faceva un carnevale fuori è uscita la sfilata il Presidente ci ha abbracciati alla fine della sfilata poi dopo la manifestazione ci ha abbracciati comunque non era solo questo perché per quasi un quarto d'ora io e Franco Rinaldi siamo stati co-presentatori insieme a Gianni Roman della manifestazione del Carnevale di Putignano siamo trasformati per l'occasione in presentazione lui stesso ci invitò benissimo proprio ecco la conclusione la dedichiamo proprio tutta intera al Carnevale va bene invece alcuni anni fa vi è stato un tentativo che è durato qualche anno per organizzare anche il Carnevale a Zapponeta e anche voi siete stati qualche volta ospiti avete partecipato abbiamo fatto anche dei gruppi abbiamo portato i gruppi si Vincenzo portammo dei gruppi perché lì anche loro volevano fare questa sfilata e noi mettemmo su questa piccola organizzazione tre anni fa siamo stati abbiamo portato il Carnevale ai gruppi di Carnevale insieme alla banda Chambot siamo stati a Stornara che è la diciamo è la capitale dei cinque reali siti è venuto Ciani noi la banda Chambot Salvatore Ciani e i gruppi di Carnevale abbiamo fatto la manifestazione fu molto bene quella manifestazione fu un momento particolare anche di più non può non si può quindi abbiamo sempre portato il Carnevale di Manfredoni a questo punto quel signore che si firma Antonio L che propone che noi ringraziamo che propone il vostro nominativo come ambasciatore del Carnevale di Manfredonia non ha tutti torti si lo ringraziamo lo ringraziamo pubblicamente il problema non è nostro è un problema che chi ma quest'anno con il Carnevale di Manfredonia in che tipo di rapporto non siete nessun rapporto confrontati nessun rapporto non abbiamo voluto fare polemica con nessuno sono dei bravi ragazzi questi che organizzano anzi c'è da c'è da ammirarli perché organizzare oggi una manifestazione è sempre difficile nell'82 l'Italia ai campionati mondiali in Spagna la Nazionale Anzur assunse un atteggiamento quello del silenzio stamba è quello che abbiamo fatto noi oggi se ne parla il prossimo quindi silenzio stampa però parliamo dei carnevali passati siete stati davvero in tantissime edizioni presentatori animatori organizzatori quindi il vostro impegno con il carnevale durante il corso dei 40 anni del vostro sodalizio è stato quasi costante abbiamo partecipato presentato con gli uncini presentato bis ti ricordi? no io dico solo una cosa i veglioncini tutti e tata non erano niente stavano con noi erano i ragazzini che apparivano per la prima volta al Cinemateatro tutti e tata io con Franco dicemmo questi due vanno lontani perché erano determinati erano molto bravi erano determinati erano molto bravi e stavano con noi in uno dei veglioncini che noi abbiamo presentato veglioncini sfilate insomma un po' di tutto veglioncini ecco nel corso nel corso della vostra vita la domanda la rivolgo prima a Lello e poi la rivolgo a te Franco avete tentato anche fuori Manfredonia di svolgere qualche attività a livello artistico? c'è stata anche la possibilità però il problema è stato di valutare il lavoro e la famiglia allora noi avevamo anche la possibilità di poterci mettere in aspettativa questo è avvenuto soprattutto nel 2001-2002 abbiamo avuto anche proposte artistiche c'era Teleregione ma ricordo trasvevo poi abbiamo avuto delle proposte non solo di televisione di network soprattutto noi abbiamo avuto proposte anche di lavorare di fare delle particine dovevamo fare alcune diciamo impegni performance da appunto come cinema come fiction abbiamo avuto delle proposte francamente devo dire la verità io con lui abbiamo avuto proposte ma proposte serie qualcuno ha detto ma perché non le avete accettate non le avete accettate perché il problema era la famiglia i figli il lavoro cioè tu li puoi fare puoi fare queste cose devi essere libero da tutto devi essere libero franco sono arrivate delle proposte devi essere libero per fare quella vita devi essere libero da tutto non devi avere famiglia non devi avere impegni perché devi essere impegnato dalla mattina alla sera se vuoi fare il professionista io nel 2002 ho avuto la possibilità di presentare oltre 42 serate con il gruppo che girava e sono arrivate anche delle proposte serie per arrivare a presentare qualcosa in tv però io vincevo ho portato questo foglietto piccolo foglietto dove così voglio ricordare per sommi capi le nostre partecipazioni a certi livelli eh vediamo un po' ti parlo di Rai TV Roma Sacsa Rugga infatti volevo arrivare anche a queste partecipazioni Roma Sacsa Rugga programma 1 mattina 30 maggio 96 Rai 1 programma sereno variabile 24 6 96 condotto da Osvaldo Bevilacco stavate sempre sempre insieme studi Rai TV Napoli verde mattina condotto da Luca Sardella in occasione Caneval 97 studi Rai 1 Roma Casa Rai 1 condotto da Massimo Giletti in occasione del Carnevale 2004 performance nella programma televisione di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia con Walter Santillo e Chiara Giallonardo domenica 30 gennaio 2005 dal 1980 in occasione sempre del Carnevale con emittenti televisivi privati teleodio con Gigi Sufrida Telenorm con Ucce De Sandis Telesveva Teleregione Telefoggia insomma ci siamo divertiti qualche cosina abbiamo fatto anche noi Carnevale 1998 con la conduttrice Italia 1 Paola Aimone Rondo ti ricordi Lello Carnevale 1998 con Danila Poggi Carnevale 2002 con Renzo Arbore Carnevale 2003 con Gigi Proietti Carnevale 2003 con Emoria Fogliero e Marisa Laurito Carnevale 2004 con Pippo Franco Animazioni insieme siamo riusciti con Lello a far cantare far cantare Renzo Arbore questo fatto me lo ha detto l'autista Marasco e Gigi Proietti e Gigi Proietti non voleva cantare e mi ha detto l'autista Marasco quando l'ho accompagnato che l'ho accompagnato a Bari all'aeroporto ho detto Gigi Proietti gli aveva detto ma quei due pazzi chi sono mi hanno costretto a cantare noi lo abbiamo fatto cantare ma una delle trasmissioni più belle l'ultima l'abbiamo fatto la performance a Telenorba intervista che ci hanno fatta a Telenorba e poi a rete 4 l'ultima con Mengacci l'ultima sempre riferita al Carnevale a Carnevale ci ha chiamato il presidente del parco del parco del Gargano e ci ha detto io vorrei la vostra presenza di che cosa avete bisogno quando vi do noi non abbiamo bisogno di niente non ci devi dare non ci devi dare niente noi veniamo e accettiamo di buon grado quello di collaborare e dare una mano e abbiamo riportato con Mengacci questa ancora una volta il Carnevale siamo in conclusione dopo questa bella chiacchierata abbiamo parlato della vostra vita abbiamo parlato dei vostri impegni Franco tu non hai detto quanti figli hai due figli due figli due figli felicemente maritato come amore certo no è serio è serio prima la famiglia ho sempre detto ho sempre detto prima la famiglia e poi tutte le altre cose ecco che cosa vorreste dalla vita per i prossimi 40 anni visto è considerato che siamo allo scadere dei primi 40 io non vorrei i soldi vorrei solo la salute che la mente mi accompagni e che possa salvere e dare un contributo a questa città anzi dico di più negli ultimi anni ho visto la città sempre andare sempre più giù cioè la città non vanno le cose non vanno da questi microfoni non faccio altro che lanciare un appello a un impegno un po' di tutti a cercare un maggior confronto di dialogo all'interno della città di una legalità che manca sempre più nel nostro contesto ma soprattutto una classe politica capace che sia capace di riprendere attraverso un progetto politico il rilancio di questa città perché questa città il contratto d'ario non ha funzionato il porto industriale non funziona i giovani vanno via le nostre menti fugono noi dobbiamo cercare di tutto di mettere da parte gli asti la litigiosità di riprendere un po' quello che è la politica con la più maiuscola senza fare il consiglio comunale di un anismo politico ma di riprendere un ruolo autentico che è il nostro di rilanciare questa città perché Manfredonia è una grande città e ha grande potenzialità ma soprattutto ha grande mente beh è una bella dichiarazione quella di Lello Castriotta la condividi Franco allora io voglio dire una cosa io chiedo ai sipontini ai manfredoniani e non quelli che vivono a Manfredonia di essere più partecipi alla vita cittadina qui la gente è abituata a delegare si va a votare poi tutto finisce dobbiamo essere più partecipi tutti tutti questa è la nostra città e la nostra città deve essere sempre più valorizzata la nostra città ha bisogno anche di noi non solo dei politici ha bisogno di tutti i cittadini e tutti insieme ci dobbiamo impegnare per una città migliore per una città più bella per una città che non faccia più errori come ha fatto in passato poi volevo salutare gli amici del carnevale è una cosa che ci tengo ci tengo tanto gli amici che stanno nei capannoni che stanno lavorando lì si fanno sacrifici gli amici tutte le maestre le professoresse gli insegnanti tutti i gruppi che stanno lavorando nei propri posti chi ha scuole chi nei capannoni per un e anche quelli che hanno lavorato anche che hanno lavorato gli amici gli organizzatori di questa manifestazione di quest'anno e per un per un per un carnevale per un per un rilancio del carnevale perché questa città ha bisogno di un rilancio del carnevale noi non partecipiamo non partecipiamo quest'anno però c'è una sofferenza in noi però non partecipiamo non perché non vogliamo fare il carnevale noi il carnevale lo vogliamo fare e in noi ci sarà una grossa sofferenza però il carnevale va riorganizzato quanto si dice riorganizzato si dice puntare su qualcosa di importante noi dobbiamo puntare sulla sfilata dei bambini la sfilata dei bambini è quella che ci può portare a livello nazionale con l'amico Lello ed altri amici che abbiamo che noi abbiamo anche amici che lavorano in Rai avevamo intenzione di organizzare una manifestazione per i bambini a livello nazionale e portare è vero Lello artisti c'era un'idea un'idea molto molto bella molto bella di portare anche artisti e ogni anno invitare a Manfredonia c'era un festival internazionale della commedia dell'arte della commedia dell'arte e ogni anno portare a Manfredonia invitare una regione una regione quindi con i loro bambini o una provincia con i loro bambini ma anche artisti e organizzare questa manifestazione che poi doveva diventare una manifestazione nazionale i gruppi i carri tutto quello che si doveva fare si deve sempre fare ma abbinarli abbinarli ai bambini dobbiamo puntare sui bambini perché la scuola la scuola è una fornace incredibile è una fucina incredibile io vorrei dire questo auguri a tutti i ragazzi ci muovono i vecchi ci muovono o no auguri a tutti auguri a tutti per un bel carnevale bello io vorrei dire questo molto spesso noi critichiamo le feste padronali le feste estive il carnevale guardate è vero che il momento è difficile è vero che non c'è lavoro c'è disoccupazione l'agenda non riesce ad arrivare al 10 del mese non al fine mese molti hanno problemi anche proprio di mettere scusate il termine fatemi passare proprio il piatto alla tavola però è importante anche che alcuni momenti di cultura o di distrazione vanno fatti ci vogliono anche quelli vanno rivisti io lo so la spesa tutto ciò che volete però anche queste cose in questi momenti bisogna continuare perché questa fa parte della vita bene potrebbe durare tantissimo una chiacchierata ci siamo divertiti una chiacchierata con voi io vi ringrazio per questa cortese presenza Lello Franco siete sempre nostri ospiti graditi ovviamente non è l'unico appuntamento ma vi saranno nel corso del tempo tanti altri appuntamenti con voi soprattutto per presentare tutte le vostre nuove iniziative visto che partite da adesso per i prossimi 40 anni davvero tanti auguri per tutto quello che avete fatto ma soprattutto per quello che avete regalato alla città di Manfredonia perché comunque avete lasciato un segno un segno importante Franco qualche volta si è divertito nel corso del tempo passato assieme a indicare i personaggi a cui sarà dedicata una strada una via è chiaro che non vuole non vuole non vuole essere non vuole essere un augurio gratiamosi assolutissimamente però credo a proposito dopo domani come si chiama quella manifestazione dopo ne parliamo eventualmente ne parliamo in un'altra occasione no 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 perché si fa giovedì quanto si fa? ne parliamo in un'altra occasione se dico così è perché ci sarà un motivo un tributo benissimo dicevo avete lasciato un segno importante e ne lascerete tanti altri grazie per cui ancora tanti auguri Piazza del Popolo finisce qui con la vostra presenza che è una presenza speciale importante per la nostra emittente televisiva abbiamo bisogno di voi perché siete ambasciatori non solo del carnevale ma di questa città è importante ci saremo ci saremo ci saremo auguri a tutti e buon carnevale a tutti grazie Vincenzo ma soprattutto auguri e salutiamo i cari telespettatori di questa di Tende Manfredonia TV arrivederci arrivederci a un fiducia bene grazie ancora a tutti ringraziamo il Lello e Franco ringraziamo tutti coloro che hanno seguito questa trasmissione speciale con i due forbicioni di Manfredonia rinnoviamo l'appuntamento con Piazza del Popolo alla prossima occasione grazie grazie